Contra Portanova, gli scabi per l'acquedotto portano alla luce resti archeologici di età romana. Domani il ritorno sui banchi per 104.000 studenti vicentini, prima provincia per popolosità studentesca. Bagare in consiglio comunale alla seduta assistono i genitori scontenti per le tariffe delle mense. Alloggi per gli universitari, il comune dimezza l'IMU a chi appitta case a studenti. Addio alla lista unica della casa dei comuni, per il nuovo consiglio provinciale si sfidano tre schieramenti. Calci e spinte in un locale, scoppia una lite tra cliente e barista. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con TG Vicenza. In apertura una notizia che è già diventata virale, ha già fatto il giro non solo della provincia, insomma, ma una notizia di respiro regionale, nazionale. Perché in Contra Portanova a Vicenza sono state rinvenute tombe romane e altri ritrovamenti sono stati recuperati dalla soprintendenza. Sepolture di epoca romana, scoperte in Contra Portanova, dove erano in corso i lavori per il potenziamento della rete idrica. Storia che riemerge alle porte del centro storico di Vicenza, per parlare agli studiosi e permettere di ricostruire attraverso frammenti un passato compreso tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Si tratta di un piccolo nucleo sepolcrale costituito da tre cremazioni e un'inumazione in un'area della città in cui non erano precedentemente note attestazioni funerarie di questo periodo. Qui siamo fuori dalla cinta muraria di Vicenza, quindi siamo nel cosiddetto suburbio. E il fatto di averle trovate qui ci aiuta a capire come impiegavano gli antichi la campagna, l'agro al di fuori della propria città. Ecco, questa è l'importanza anche dell'archeologia, capire come vivevano, non solo cosa utilizzavano, ma come, dove e in che modo impiegavano il territorio. Tombe che contengono elementi che testimoniano la ritualità funeraria tipica dell'epoca romana. Gli archeologi hanno provveduto a recuperare tutti i materiali e la terra di rogo. I corredi sono i corredi tipici della ritualità funeraria romana, quindi abbiamo dei balsamari in vetro che venivano impiegati nella spersione delle ossa, contenevano cioè profumi, unguentari, che servivano appunto a profumare il corpo del defunto. Troviamo anche del servizio da mensa composto da piccole ciottole, se così le possiamo chiamare, e un'olpe. C'è una bottiglia che conteneva dei liquidi, vino di solito o acqua, impiegati durante le libagioni, quindi i riti di chiusura della sepoltura, dai parenti del defunto verso il proprio defunto. Non appena gli archeologi avranno completato il recupero dei reperti, sarà possibile proseguire con il cantiere. I lavori sono stati interrotti alcune settimane fa, quando sono stati fatti i primi rinvenimenti, il doppio senso di marcia quindi non potrà in questo momento essere riaperto. Abbiamo bisogno per terminare i lavori di almeno un paio di settimane dopo che il cantiere verrà riconsegnato dalla sua intendenza, quindi verosimilmente avremo bisogno di almeno un altro mese prima di riaprire a doppio senso di marcia la Contraporta Nova. Insomma siamo prossimi al rientro a scuola, riparte un nuovo anno scolastico, per gli studenti vicentini sono 104 mila i banchi pronti a essere di nuovo occupati. Prima campanella domani per oltre 104 mila studenti della provincia vicentina, anche se per alcuni la pausa estiva è finita ieri, alcuni istituti hanno deciso di anticipare le lezioni per allungare qualche ponte nel corso dell'anno scolastico. Nonostante il calo degli studenti, figlio della denatalità generalizzata, Vicenza resta la provincia del Veneto con il numero più alto. Siamo la provincia con il maggior numero di studenti e studentesse. Abbiamo sentito anche noi, come le altre province, l'effetto denatalità, lo stiamo sentendo soprattutto alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e al primo ciclo, quella che chiamavamo scuola media. Non l'abbiamo ancora sentito alla scuola secondaria di secondo grado, dove abbiamo più 90 alunni, quindi più due classi che sono state assegnate. Denatalità che invece si fa sentire per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, con 121 studenti in meno e di conseguenza 4 sezioni in meno rispetto allo scorso anno. Alla primaria che vede un meno 731 alunni e 39 classi, il primo ciclo che registra un meno 727 ragazzi e meno 18 classi. Non ne risente il ciclo delle superiori, che vanta un esercito di 40.566 ragazzi, 90 in più rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda docenti e cattedre, è stata avviata la procedura informatizzata nei giorni scorsi per i supplenti, proposta di incarico che è arrivata a 2.124 insegnanti, 226 messi in ruolo. Abbiamo potuto non fare tagli. Il ministero, pur in presenza di un minor numero di studenti, ci ha dato lo stesso numero di organico, cioè di personale docente. E quindi abbiamo mantenuto un livello alto di possibilità anche di didattica, perché dove c'è magari un insegnante in più, si possono fare attività anche di laboratorio specifico e quindi anche di seguire gli alunni che hanno più difficoltà. Bagar in Consiglio Comunale ieri sera sul tema dell'aumento delle tariffe per la mensa scolastica. Perché non sono sufficienti queste misure introdotte e comunicate sabato? Ma riteniamo che non siano sufficienti, perché comunque sono disparitarie, nel senso che ci sono comunque famiglie che pagano il doppio, se non di più, e quindi l'aumento che viene richiesto è veramente spropositato rispetto a quello che può essere il reale aumento di costo della materia prima. Innanzitutto che ci sia il reintrego totale del costo del passo quando c'è l'assenza, ma al di là di quello, quello che non riusciamo ad oggi a capire è effettivamente dal punto di vista dei conti, quanto il Comune, in questo momento l'amministrazione di adesso, decide di mettere a bilancio per la mensa in più. Perché da quello che ci risulta l'aumento che ci è stato messo in bilancio per la mensa non è tale da suffragare gli aumenti che sono stati dati alle famiglie. Avrebbero dovuto intervenire su quello che era proprio il ricalcolo della tariffa, invece hanno lavorato su rimedi parziali, e quindi hanno diminuito un po' il termine dei giorni di assenza, tutti pagliativi insomma. Secondo me avrebbero dovuto lavorare su quello che era il tema principale che è l'aumento spropositato della quota retta. Genitori sul piede di guerra che ieri hanno preso parte al Consiglio Comunale straordinario chiesto dall'opposizione per discutere della riforma del sistema delle rete sulle mense scolastiche, con aumenti, novità sul metodo di pagamento e relativi correttivi apportati sabato dall'amministrazione dopo una serie di incontri con le famiglie che minacciavano la protesta del panino, cioè di portare il cibo da casa. Bagarre ieri tra i banchi con l'opposizione che ha ancora una volta rimarcato la necessità da parte dell'amministrazione di dover trovare copertura economica agli aumenti, almeno in questo anno scolastico senza gravare sulle famiglie. Quanto meno per quest'anno per dare un aiuto alle famiglie che si possano quantomeno organizzare ma anche per il 2025 nel prossimo bilancio di previsione prevedere un capitolo di bilancio che vada a coprire come facevamo noi del resto, rinunciando a qualcos'altro di meno essenziale perché il servizio mensa per i nostri figli è essenziale, qualche festa in meno, qualche festina in meno nei quartieri e più copertura rispetto ai bisogni delle famiglie. Restiamo in ambito scolastico, parliamo di alloggi per universitari, il comune dimezza l'IMU a chi affitta agli studenti. Questo contratto cosa abbiamo deciso di fare? Era già in essere, è molto interessante sia per i proprietari di casa sia per gli studenti perché ci sono costi calmierati dell'affitto, ci sono agevolazioni fiscali, c'è veramente tanto disponibile e noi abbiamo deciso di fare una manovra importante a livello fiscale per l'IMU di quest'anno cioè dallo 0,84 siamo passati allo 0,48 quindi abbiamo voluto veramente fare un abbattimento molto forte dell'IMU proprio per dare questo segnale e di invitare ad affittare gli studenti. Quello degli alloggi universitari resta una problematica rilevante da superare per poter rendere Vicenza effettivamente una città universitaria davvero attrattiva per i giovani che vengono a formarsi problematiche comuni ad altre città per effetto dei rincari generali e la concorrenza degli affitti brevi per turisti. Nel caso di Vicenza stiamo evidenziando che il comune si è dato da fare, è tra i primi comuni che ha messo in atto una politica di modifica del canone agevolato per gli studenti per cui dando delle condizioni migliorative per chi affitta agli studenti. Cambiamo argomento, è scaduto il termine per la presentazione delle liste che si sfideranno per il nuovo consiglio provinciale a Vicenza. 113 comuni vicentini, 43 sfidanti per 16 posti a disposizione. Sono i numeri delle elezioni per il consiglio provinciale, si scaldano i motori e è appena scaduto il termine per la presentazione delle tre liste che si sfideranno. I giochi sono chiusi, qui c'è già la prima notizia, si disgrega la casa dei comuni, la lista unitaria che per dieci anni è stato un grande contenitore in cui centrodestra e centrosinistra hanno convissuto lavorando insieme all'interno di un consiglio senza opposizione. Oggi invece è guerra, sana guerra politica tra schieramenti opposti, casa civica, Vicenza in comune e centrodestra uniti per Vicenza. Tre liste composte da 15 sindaci e 28 consiglieri comunali che si daranno battaglia, 8 i consiglieri provinciali in carica che si ricandidano. Il centrodestra corre in solitaria con Fratelli d'Italia che punta a ribaltare i rapporti di forza, segnando più eletti della Lega. Il centrosinistra e i civici della casa dei comuni hanno divorziato e ognuno è andato per la sua strada, anzi per la sua lista. A questo punto, chi vincerà rivendicherà gran parte delle deleghe, dall'edilizia scolastica alle strade. Va comunque considerato che essendoci tre liste è difficile che si creino delle grandi distanze, che ci sia una vittoria assoluta. Se ci sarà, sarà una maggioranza relativa. Alla fine, insomma, potrebbe non cambiare molto rispetto a oggi. L'election day è fissato per domenica 29 settembre, quando complessivamente 41 province italiane, tra cui Vicenza, eleggeranno il Consiglio. Si voterà dalle 8 del mattino alle 8 di sera e nel Vicentino saranno sei seggi. A Vicenza, a Bassano del Grappa, ad Asiago, a Montecchio Maggiore, a Sossano e a Tiene. Gli elettori non saranno i cittadini, ma 1519 tra sindaci e consiglieri comunali dei 113 comuni vicentini. Il voto sarà ponderato, cioè avrà un peso proporzionale al numero di abitanti del comune che si rappresenta. Il nuovo Consiglio provinciale rimarrà in carica due anni e alla guida troverà l'attuale presidente, Andrea Nardin, che essendo stato eletto nel 2023, resta in carica per quattro anni fino al 2027. Insomma, il futuro istituzionale della provincia si gioca solo in parte questo mese di settembre. Molto resterà da dire, ma quella che sta per sorgere è già un'alba politica e come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Parliamo adesso di allerta maltempo. Allerta maltempo in arrivo che mette a rischio la circolazione del traffico tra il Veneto e il Trentino lungo la strada provinciale 350. Viabilità ha deciso il blocco della circolazione nel comune di Valdastico. I sensori di una vicina cava infatti hanno rilevato una serie di movimenti franosi. La strada era stata già chiusa nei giorni scorsi, ora a scopo precauzionale è stato interdetto il passaggio anche per quello che riguarda il sentiero che collega la cava a Ponte Maso. E adesso parliamo di un episodio di violenza, spinte e calci tra un cliente e il proprietario di un locale. Violenta lite in un bar. Siamo a Vicenza in Via Alfieri. Uno degli avventori ha chiesto una birra, ma il proprietario avrebbe precisato che prima voleva essere pagato. Il cliente a quel punto si sarebbe sentito offeso e per questo avrebbe aggredito il titolare del locale con spinte e calci. E quanto ricostruito dalla polizia giunta sul posto dopo che era scoppiata la lite. Il barista infatti avrebbe reagito all'aggressione e da lì sarebbe iniziata la collutazione sedata soltanto dall'intervento degli agenti che hanno separato i due e acquisito le testimonianze dei presenti per ricostruire quanto è successo. Al momento nessuno ha sporto querela. Vede gli agenti di polizia, tenta di nascondersi. Un cittadino irregolare sul territorio italiano è stato trovato in possesso di droga. Alla vista delle volanti cercava di nascondersi in sella ad una bici imboccando una strada secondaria in zona viale della pace. Gli agenti insospettiti lo hanno seguito e fermato. Trovato senza documenti e accompagnato in questura, l'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale. A suo carico è stata avviata la procedura per l'espulsione. È stato trovato inoltre in possesso di una bustina contenente hashish. Così è stato anche sanzionato per possesso di stupefacente per uso personale. E queste sono giornate di grande angoscia per i dipendenti di Italgelato di Camisano Vicentino dopo l'annuncio di chiusura del sito produttivo da parte dell'azienda, oggi primo vertice in regione. Ancora incertezza per i lavoratori di Italgelato, l'azienda di Camisano Vicentino, che al ritorno dalle ferie, ha annunciato la chiusura del sito produttivo. Tutti a casa, stabilimento chiuso. In regione ha convocato un vertice con unità di crisi alla presenza di sindacati e azienda. Il sindacato ha proposto all'azienda delle azioni utili per salvaguardare il posto di lavoro e garantire la continuità dello stabilimento di Camisano Vicentino. La regione Veneto, con immensa professionalità, ha illustrato altrettanto tutti i possibili strumenti previsti dalla legge e creati proprio allo scopo di risolvere queste controversie. Dopo un'ampia discussione ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana. Fumata nera nella giornata odierna, ma la speranza è riposta nella settimana di tempo lasciata alle parti per riflettere. professionalità alte tra i dipendenti di Telgelato che nel frattempo continuano con le azioni di protesta. Come ricordata l'azienda, finché i lavoratori non avranno delle risposte, il presidio H24 proseguirà e altrettanto lo sciopero a intermittenza. Non escludiamo altre azioni sindacali. In prima serata, vi ricordo l'appuntamento con il focus del nostro direttore Luigi Bacialli. Gli ospiti di questa sera saranno Edoardo Alberti, Fabio Crea, Valentina Dallacort, Nazareno Gerolimetto, Jonathan Montanariello, Valentina Pilon, Simonetta Rubinato e Giada Vianello. TG Vicenza finisce qui. Come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro buon proseguimento di serata, sempre su Rete Veneta. Grazie a tutti.